Credo che rispetto a questo problema sociale, che è quello della casa, bisogna avere una attenzione, non si può girare la testa dall'altra parte. Io ho avuto modo di sentire il prefetto sulla problematica dei senza tetto a Cosenza, di chiedere di sospendere ogni atto di sgombero che avrebbe comportato una situazione di maggiore sofferenza perché è in atto un lavoro da parte nostra per dotare la Regione di una legge sull'autorecupero, i beni di proprietà pubblica che sono abbandonati, che possono essere recuperati dai comuni attraverso il coinvolgimento di cooperative di senza casa, perché si mettono a disposizione appunto di chi un alloggio non ce l'ha. Il patrimonio abbandonato credo che sia opportuno recuperarlo per una funzione sociale, non lasciarlo nell'abbandono. Questa è la filosofia che ci guida. Salvatore Bruno per la CNews24